Era in programma per il 22 marzo la sentenza UEFA riguardo gli ululati razzisti a Costa, giocatore di colore dello Spartapraga. Da parte di alcuni tifosi della Lazio, un'occasione della trasferta in Repubblica Cega per gli ottavi di finale di Europa League. Il verdetto è stato rinviato alle prossime settimane, anche perché l'eliminazione della squadra di Pioli dalla competizione ha di fatto eliminato l'urgenza di decidere su un tema così delicato. Il club bianco celeste continua a rischiare fino a due turni di squalifica del campo, probabilmente uno. La società di Lotito potrà contare però su un prezioso assist arrivato dal referto dell'ispettore del Fare, acronimo di Football Against Racism in Europe, che nell'occasione ha sottolineato come i Bù siano arrivati solo da una piccolissima porzione del settore ospiti. Una buona base di partenza, ma sarà comunque decisiva la relazione del delegato UEFA. Se ne riparlerà più avanti. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B. Consigli del Mago in sede e schedine già pronte e giocate per voi. Fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B. Il posto migliore dove passare alla cassa.